Modulo 1. Criteri di valore storico e culturale per la conservazione delle ricette, contenuti per materiali digitali. Identificazione di una ricetta rituale. L'obiettivo di questa presentazione è spiegare come selezionare una ricetta rituale per la digitalizzazione. In primo luogo, è fondamentale capire cos'è una ricetta rituale come eredità e perché dovrebbe essere conservata. Inoltre viene introdotta una serie di criteri da applicare per capire se una ricetta è un rituale, nonché l'intero processo da seguire per creare una rappresentazione digitale di una ricetta. A causa della globalizzazione e dell'accessibilità tra nazionalità diverse, c'è il rischio che cucine rituali di paesi diversi creino una cucina fusion. Pertanto, è di grande valore preservare la cucina rituale, insieme ai suoi tratti etnoculturali, nonché il folklore e le tradizioni ad essa collegati. È una sfida importante per le comunità locali riconoscere il loro cibo e la loro cucina come patrimonio al fine di preservare la loro identità e garantire che questa conoscenza passi di generazione in generazione. Una volta che una ricetta è stata considerata una ricetta rituale secondo una serie di criteri accettabili, le rappresentazioni digitali sono un modo per preservare la ricetta rituale. I criteri per identificare e selezionare una ricetta rituale. Essere pratiche, rappresentazioni ed espressioni dell'identità locale. Essere riconosciuti da comunità, gruppi o individui come parte del loro patrimonio culturale. Da trasmettere di generazione in generazione. Essere il risultato dell'interazione con la natura e la storia e la memoria locale e regionale. Rispettare la diversità culturale e la creatività umana. Rischio che la ricetta o i suoi ingredienti scompaiano. Essere una risorsa di tecniche tradizionali e artigianali. Partecipare a rituali o azioni o attività festive. Essere parte delle pratiche sociali e comunitarie. Essere uno spettacolo pubblico o privato di eventi importanti. Essere il risultato di conoscenze e usi locali e regionali. C'è chiaramente una relazione tra patrimonio e cucina locale, e conoscere la comunità significa sapere cosa sta mangiando. Gli ingredienti utilizzati, il modo in cui vengono preparati e il modo in cui vengono consumati, possono riflettere parte dell'identità di una determinata regione e delle sue caratteristiche culturali. Tutte le questioni, come sapere come viene preparato, trasformato il cibo, chi lo cucina, quali strumenti e strumenti vengono utilizzati quando viene preparato, mostrano differenze e particolarità culturali. Ciò include anche rituali, storie ad esso associate, Timothy, 2015. I rituali celebrano e stabiliscono momenti speciali nella memoria delle persone coinvolte e della comunità in generale. Nella loro diversità, le tradizioni alimentari rispecchiano numerosi riti da preservare, non solo per quanto riguarda la preparazione del cibo, ma anche il suo consumo. Come indicato nello studio di Santilli del 2015, il valore culturale e del patrimonio alimentare non sta in un piatto tipico o nella sua ricetta, ma nelle pratiche alimentari, nei rituali e nei significati ad essa assegnati. I rituali associati al cibo riflettono la storia di una comunità, in particolare le sue influenze, credenze e superstizioni. In Portogallo, verso Pasqua, l'offerta del folar è un rito che dura. Una torta semplice, con una leggera nota di cannella e con sopra una o più uova. Viene offerto dai padrini ai figliocci come simbolo di amicizia e riconciliazione. Dopo aver selezionato una ricetta, si consiglia di creare una rappresentazione digitale di una ricetta sotto forma di presentazione video. Breve introduzione sull'importanza di una ricetta rituale scelta come elemento integrante dell'identità. È fondamentale presentare la ricetta scelta in modo professionale, comunicativo e amichevole. Poiché la ricetta è parte integrante della comunità sia che sia legata alla religione o alla tradizione locale, è necessario specificare come la ricetta è collegata alla comunità e perché. Rapporto tra religione barra feste locali e gastronomia. Il cibo è strettamente legato alle credenze e alle pratiche religiose. Attraverso il cibo i gruppi comunicano e condividono un'identità interpretativa della loro esistenza. La cucina rituale è parte integrante delle usanze locali. È sempre legato a una festa locale e come un modo per preservare la tradizione locale. Specificare come e perché è nata la ricetta e l'importanza che ha per la comunità. Spiegare, se del caso, le credenze locali e il loro rapporto con il cibo. Ad esempio, nel caso dei cristiani, il pane rappresenta il corpo di Cristo e il vino il sangue di Cristo. La religione, in quanto elemento culturale, interviene nell'accoglienza del cibo stesso definendo cosa può e non può essere consumato e con quale significato. Spiegare passo dopo passo la preparazione del piatto rituale, da come viene preparato fino al raggiungimento del risultato finale, compreso il tempo di cottura. Gli ingredienti sono fondamentali per una ricetta e dovrebbero avere risalto perché saranno sicuramente legati al territorio e ai prodotti tipici del territorio. È importante introdurre gli ingredienti in ordine e menzionare le rispettive quantità di ciascuno. Presentazione infine dettagliata della preparazione tradizionale. Possono essere inseriti i sottotitoli. Il corso è stato creato dal consorzio del progetto Eurica finanziato dal programma Erasmus Plus. Grazie per l'attenzione!